Pocchi, mezza rovesciata, quasi autogore, gol, 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 dai via questo pallone sull'esterno bene Ronaldo, limite dell'area, il sinistro di Cristiano, gol, 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 attenzione va la Juventus con la conclusione ribattuta, Ronaldo, la Juventus ha in vantaggio, CR7, Cristiano. Al centro, Ronaldo non si butta sul pallone perché era in fuorigioco, Mantukic sì però, va Mario, Mantukic, Ronaldo, il raddoppio. Cansello davanti Miraschi, area di rigore, se la mette sul destro, conclusione ribattuta, portiera porta vuota, destro, gol, 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 Ronaldo, il pareggio della Juventus, Cristiano. Bato i di, attenzione va la Juventus, bato i di, per Ronaldo, palla sul destino, ma Cristiano, Ronaldo, è un gol pazzesco! Cansello la parata, Ronaldo, il raddoppio della Juventus, Cristiano Ronaldo esplode! 덧 per il siamo. Pjanic, palla dentro, bella, Ronaldo, gol, 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 e il tiro di Ronaldo, la palla in rete, Fiorentina 0, Juventus 3, Cristiano, Parte il tiro di Ronaldo, la palla in rete, la Juventus ha in vantaggio al minuto numero 25, nel secondo... Pjanic, il cross in mezzo, attenzione Chiellini, colpo di testa, attenzione Ronaldo, il pareggio della Juventus Di Paolino tutto largo a sinistra per Ronaldo, lo stop Real Madrid nell'anno 2010, vediamo se poi magari lo supera Sì Il destro, goooool Parte il tiro di Ronaldo, la paura in rete, la Juventus ha in vantaggio Mandzukic, può metterlo in mezzo Mario, lo fa, palla alta, di testa, schianta Ronaldo, gol, 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 gol Matuidi, Matuidi, viene dentro l'area di rigore Ronaldo, che scivola, destro, deviato, gol, 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 gol Profondo per Bentancur, che allunga per Mandzukic Mandzukic dentro per Ronaldo, al volo destro, gol, 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 gol Chiare sete dentro, colpo di tacco, Ronaldo Il pareggio della Juventus ci è In da Bernadeschi, Ronaldo Good tempo again from Juve at the start of this second half Lifted in towards Ronaldo, what a save Ronaldo on the follow up All kinds of appeals It's in, it's in In front Is it ever in doubt The man of the moment Yeah In by Pjanic, Ronaldo Ronaldo's in space and will get the header away beyond Donner Subito bene per Douglas Costa sul fondo Douglas Costa la mette in mezzo all'indietro Per il sinistro di Ronaldo, gol, 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 gol Cristiano, gol It might just bounce kindly Even better than that scatta Di Bala lancio di 40 metri di Bonucci preciso per Di Bala stop di petto la mette giù pari per Ronaldo gol 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 si sposta Rabiot palla dentro per Ronaldo bella tu per tu sinistra gol 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 Bonucci verso Alexandro Iquaine Ronaldo dentro a saltare il traversone sul pallo lungo verso Ronaldo Ronaldo ma quanto saltato so comfortable that you've at the moment guided through here to Ronaldo and he finishes off beautifully it's mira de Pianic que buena pelota han puesto Pianic Di Bala Cristiano gol 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 di Cristiano gol gol Costa patria pallone sulla trequarta attenzione Douglas al limite Ronaldo davanti al portiere Ronaldo gol 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 Di Bala ha un buco, entra in un'area di gore sulla destra, Di Bala, Di Bala la mette in mezzo! Goal, 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 Cristiano goal! Here's Ronaldo, still trying to make it, 8 in a row and Ronaldo... Cristiano! 1-0 Juventus! Cristiano! Cristiano! Ramsey dentro il pallone, una grande idea questa per Juan Quadrado, attenzione arriva Ronaldo, dentro il pallone, Ronaldo! La Juventus è in vantaggio! Parte il tiro di Ronaldo e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio! Al minuto numero 23! Cristiano! And it's in the net! Attenzione al contropiede della Juventus, va Cristiano, punta la porta, Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo con il destro! E' un gol mostruoso! Mostruoso! Cristiano, goal! Su! Tre! Il pallone che passa, Ronaldo! Arriva Ronaldo! Ronaldo cambia la direzione, il destro! Cristiano! Parte Cristiano! Cristiano! And it's into the corner, and it's 1-0! It's got to be a great chance, Dybala with Ronaldo! Ronaldo! 2-0! 2-0! Parte Miralem, è una finta per Ronaldo! Ronaldo, stretching his legs, Cristiano Ronaldo! With the opening goal for you! Can he keep that record going? Yes, he can! Juve are a level, 1-1 in the first! Buono la servizio per Cristiano, il destro! Goal! 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 Cristiano! He doesn't... The great run brings in Danilo, little sprint from Danilo, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Morata to Cristiano, Cristiano Ronaldo around the keeper and in the net! And that is what's... Here comes Cristiano, and he plays the Panenka into the middle of the goal. And it is CR7, and it's into the net! Cristiano Ronaldo, Cristiano, and it's into the net! This time it's high! Morata on the wing! That's a great cross, and it is Ronaldo! CR7! Finds Ronaldo, Cristiano Ronaldo! CR7! Second into the... Bartle! Now, Cuadrado, Ronaldo spins away from one challenge, and Cristiano Ronaldo supplies the... Chiesa taking on Michaelenko, good cross, Borata is in there, Ronaldo I think got the final touch. In his last 12 visits to this stage, 13-13, let's see, Ronaldo! Goal! V Ronaldo! Goal! One back by the Juventus, this is interesting. Cristiano Ronaldo, CR7, scores the first. Cristiano Ronaldo, what's going to happen here? You know the answer to that, it's in the net. Juventus 3. Con un lancio di 40 metri, a imbeccare Ronaldo, c'è Morata dentro in l'area di rigore. Ronaldo, Ronaldo, c'è consigli, Ronaldo! Goal! 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 Poi va via bene, scuscia da Cristante, entra in l'area di rigore. Buono l'assist per Ronaldo al limite. Il sinistro, goal! 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 Alexandro. Il cross per Ronaldo, di testa, goal! 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 La parata in tuffo di Kordaz, che rimane a terra, si rialza contro Traversone per la testa di Ronaldo. Goal! 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 Pallone dentro, cercare Chiesa. Chiesa punta la porta. Chiesa ancora, Chiesa, raso terra, Ronaldo. Ronaldo! La Juventus ha in vantaggio! Cristiano Ronaldo! Ventancurcia, Morata e Ronaldo, parla per Cristiano. Cristiano, entra in l'area di sinistro di Cristiano. Goal! 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 In he comes. Ronaldo's there! And Ronaldo opens the scoring after... Cragno, Cristiano, Ronaldo in the net. Chiesa finds Cristiano, CR7 on a hat-trick. CR7! With the hat-trick! Testa, palla fuori per Bernadenski, la può rimettere in mezzo, la rimette Chiellini, deviazione, Ronaldo! Il pareggio della Juventus, fuori gioco. Fuori gioco. Due uomini del Napoli, Chiesa, finta controfinta di Federico, mette in mezzo il pallone, Bello per il gol! Goal! 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 Oh! Exactly that! Here comes Ronaldo. Ronaldo into the area, Ronaldo for his century! Cristiano Ronaldo. Corner number six for Juventus. That's got to be a goal, and that is the opening goal of the... Cristiano! And his save, but the rebound is in. Handanovic's heroics for nothing as CR7 makes it 1-0